Qual è il tè migliore da bere tutti i giorni? Il vino. Mi piace come ragiona. Ho scoperto che quello che tanti pensano possa condurre a una vita lunga e in salute è spesso fuorviante o sbagliato. E se riuscissimo a decodificare il segreto della longevità, è a questo che ho dedicato gli ultimi 20 anni della mia vita. Vi dispiace se... Invece di cercare risposte con piastre di petri e provette, ho individuato cinque luoghi nel mondo che producono le persone più longeve della Terra. Le zone blu. Qual è il segreto per vivere a lungo? La comunità. Chi è depresso non vive a lungo. La pendenza per noi è rilevante. Solo camminando c'è un maggiore dispendio di energie. Vogliamo vegetare o essere produttivi e servire l'umanità sotto tutti gli aspetti? In questi luoghi si raggiungono i cento anni con una frequenza straordinaria. I loro segreti potrebbero aiutare tutti noi a ricavare quanti più anni buoni possibili dal nostro corpo. Questa è la promessa di Blue Zones. Grazie. Grazie a tutti.